L'ordinanza firmata dal primo cittadino Carlo Masci prevede la rimozione degli esemplari di cinghiali vaganti abituati a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi, si legge testualmente, procedendo all'abbattimento immediato degli animali. Identica ad altre firmate nei vari comuni italiani, il provvedimento pare un via libera alla caccia. Con mezzi idonei e soltanto in condizioni che permettano di controllare l'esemplare di fauna selvatica tenendo conto appunto della incolumità dei soggetti che si potrebbero trovare nell'area. Quindi voglio precisare che non è un far west indiscriminato che consente l'abbattimento degli animali in qualsiasi condizione e con qualsiasi mezzo, in condizioni di sicurezza e con mezzi idonei. Circa un centinaio di esemplari a spasso nel territorio pescarese, quasi due milioni e mezzo i cinghiali nel nostro paese. Il focus è la sicurezza delle persone in campagna e in città, con il rischio di incidenti stradali e, che dire, dei danni all'agricoltura. Un problema portato in commissione bilancio con un emendamento dello scorso 21 dicembre, affirma Foti di Fratelli d'Italia che apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica. Il presidente Marsiglio ha accolto la norma con un plauso. Qualche numero, la regione conta 150.000 capi, in pratica un cinghiale, ogni 8 abruzzesi. Nel triennio 2019-2021 si sono verificati 1.114 incidenti, 7.500.000 euro i danni riportati. Lecito chiedersi, ma chi paga? Secondo l'orientamento recente della Cassazione, ormai unanime, è la regione Abruzzo che deve pagare per gli incidenti provocati da tutta la fauna selvatica, quindi non solo dai cinghiali. Fino a luglio c'è stata per due anni una polizia assicurativa dove faceva capo ai loidi di Londra che provvedevano in parte al pagamento. Oltre alle ordinanze si potrebbe sbirciare nell'elenco delle soluzioni già adottate altrove e che in Abruzzo faticano ad arrivare. All'estero, dove prima di noi hanno avuto questo problema, hanno creato dei sovrappassi, dei sottopassi, utilizzano spesso delle gabbie di cattura, anche perché gli ungulati vanno sempre negli stessi posti. Per esempio ci sono lungo le strade dei mezzi di rifrazione, delle tabelle luminose che avvisano il cittadino prima di arrivare accendendo una lampada che segnala che c'è un animale selvatico che sta per attraversare. E sono mezzi molto efficaci. In Alta Italia sono state già adottate queste misure e sono risultate efficaci.